Per ripartire è necessario che si riparta tutti assieme, questo sembrerebbe un dato scontato ma non lo è affatto. È necessario ripartire tutti assieme e nessuno deve rimanere indietro, così come ci ricorda Papa Francesco. E allora secondo me è necessario che il governo, prima di tutto la Chiesa, certamente ciascuno di noi, metta in primo posto, al primo posto, quelli che sono gli ultimi, gli esclusi. La scelta preferenziale per i poveri significa proprio questo, cioè avere la capacità di guardare quelle che sono le sacche ancora inesplorate di povertà, di abbandono delle persone. Non si faccia finta di niente, questo tempo per noi è stato provvidenziale paradossalmente perché possiamo capire laddove ci sono delle difficoltà, quelle devono essere aggredite prima ancora che altre questioni di carattere anche economico, sociale, che sappiamo molto bene hanno portato lontano la società e l'umanità intera.